Nuova promo di Pasqua di Bing X che si va a sommare a tutte le altre. Che cos'è questa ulteriore promo che Bing X ha lanciato in questi giorni pasquali che ti permette di guadagnare fino a 1000 USDT? Ciao da Cryptovaluta Italia, io sono Claude, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Prima di iniziare ti ricordo però di iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche, è importantissimo, lo ripetiamo sempre, soprattutto per sostenere la community, e facci sapere magari qui sotto nei commenti cosa ne pensi relativamente a questo bonus di Bing X straordinario oppure appunto se hai delle delucidazioni o comunque hai dei chiarimenti che vuoi, scrivicelo qui sotto nei commenti che ti andiamo sicuramente a rispondere. Vi ricordo inoltre, noi non siamo dei consulenti finanziari, quindi tutto ciò che viene detto e illustrato all'interno dei nostri video è frutto di anni di esperienza in questo settore, quindi non vuole essere un consiglio finanziario, però mi raccomando ogni singolo investimento che tu andrai a fare deve essere fatto in maniera consapevole e soprattutto oculata. Allora, adentriamoci all'interno del bonus di Bing X, questo bonus straordinario che non ha lanciato praticamente in questo modo nessun altro exchange. Diciamo che Bing X in linea generale nell'ultimo periodo sta facendo un marketing veramente stravolgente, veramente interessante, e secondo noi è tra i migliori, se non il migliore in assoluto da questo punto di vista. Allora, al di là che ovviamente c'è la possibilità, oltre a questo bonus, è cumulativo perché ovviamente va a sommarsi a tutti gli altri bonus che adesso per fare un recap generale andremo a vedere. Però innanzitutto parliamo di questo bonus pasquale perché sostanzialmente come funziona? Funziona che adesso abbiamo tradotto la pagina in italiano, quindi se alcune frasi non sono tradotte magari in maniera proprio di senso compiuto, non farci caso. Comunque, in sostanza, riuscendo a tradare ogni 2000 USDT, ok, quindi facendo un trading di almeno 2000 USDT, hai la possibilità di vincere un nuovo pasquale. Come puoi vedere, nel momento in cui hai tradato questi 2000 USDT, ti compare questo martello. cliccandoci, in questo caso, si sbloccherà questo, si romperà, diciamo, questo uovo che ti permette di vincere questo bonus fino a 1000 USDT, ok? Mi raccomando, è fondamentale che ovviamente puoi andare a riutilizzare per fare altro trading, oppure il copy trading, eccetera, eccetera. La cosa fantastica è che di fatto non c'è un vero e proprio limite da questo punto di vista. Quindi tu, per esempio, puoi tradare anche 6000 USDT, ok? Oppure, per esempio, molti cosa fanno? Molti tradano magari 100 USDT, però con una leva di 10x, oppure di 20x, ok? Quindi puoi fare anche così, in questo modo. Comunque sappi che ogni 2000 USDT vai a sbloccare, appunto, una di queste uova qui. Questa è una cosa fantastica. Il bonus, ricordiamo, vale dal... è partito il 4... scusate, il 6 aprile 2023 a mezzanotte e si concluderà il 9 aprile 2023 alle 23.59, quindi si può dire alla mezzanotte del 10, ok? Qui ti va a riepilogare come funziona. Quindi quello che dicevamo prima, per ogni volume di trading di 2000 USDT, durante il periodo dell'evento, appunto è solo coppie di scambio di criptovalute, gli utenti riceveranno un nuovo fortunato per vincere i premi come voucher per il copy trading e il bonus, appunto, per fare la leva, bonus conto, USDT, eccetera, eccetera. Ecco, una cosa importantissima, questo va tenuto sicuramente in considerazione, conta solo le posizioni aperte per più di un minuto. Quindi mi raccomando, nel momento in cui andrai a fare il trading, devi tenere la posizione aperta almeno un minuto, però questo mi sembra ormai assodato e scontato. La cosa fantastica di questo bonus è che, come dicevo all'inizio, va a sommarsi a tutti gli altri bonus attualmente in essere, perché ricordiamo una cosa importantissima, adesso andiamo qui su un'altra schermata, Bing X dà la possibilità di accedere ad altri bonus, tra cui, per esempio, come puoi vedere, qui ce ne sono una valanga. Ecco, una cosa importante, iscriviti tramite il link che trovi qui sotto, in basso, in descrizione, perché ti dà la possibilità di accedere a questo bonus, non solo Pasquale, ma soprattutto a questo bonus, a questi ulteriori bonus che si vanno, ovviamente, a accumulare. Mi raccomando, è importantissimo, qui sotto nei commenti trovi il link di iscrizione a Bing X, se non l'hai già fatto. Quindi, questi sono gli altri bonus che ti permette Bing X di guadagnare, per esempio, questo qui depositando un totale di 200 USDT, ti dà la possibilità di vincere 2 USDT. Oppure, per esempio, andando oltre, se io mettessi, depositassi, oppure facessi dei trading spot e raggiungo un volume accumulativo di almeno 20.000 USDT, mi dà un bonus di 10 USDT, ok? Quindi, sono dei bonus, ovviamente, accumulativi che si vanno a sommare, appunto, al bonus Pasquale che abbiamo detto. Ora, nel momento in cui io ho guadagnato questi USDT, che cosa me ne faccio? Ovviamente, possono essere riutilizzati, infatti, il nostro consiglio è sempre quello di andare a sempre diversificare, perché, come sai, Bing X è una piattaforma, non solo un exchange, quindi, una piattaforma che ti permette di scambiare le criptovalute tra di loro, ma è una piattaforma che ti dà la possibilità di guadagnare anche in diversi modi. Quali sono questi diversi modi? Beh, sicuramente, quelli più conosciuti, adesso apriamo qui la schermata, è sicuramente quello del trading spot, come accennavamo poco fa. Il trading spot è quello più utilizzato, si può dire, che ti permette, appunto, di fare trading a tutti gli effetti, è fatto veramente bene. Qui sulla sinistra, adesso noi siamo già all'interno del trading spot, però, comunque, se accedi direttamente dalla schermata iniziale di Bing X, per accedere al trading spot, basta andare in alto dove trovi spot e cliccare, appunto, su spot, molto semplicemente. Qui puoi addirittura scegliere di selezionare la coppia, che in questo caso ti interessa maggiormente. Qui di default è impostato Bitcoin e USDT. E qui, ovviamente, puoi comprare, puoi vendere, puoi impostare dei limiti. Questa è, diciamo, la cosa veramente interessante. È possibile, per esempio, appunto, fare a mercato, appunto, come detto prima, fare impostare un limite. E qui, appunto, puoi fare una serie di settaggi, impostare l'importo di Bitcoin, oppure l'importo di USDT. Ok, quindi, questi, ovviamente, sono un po' tutti i pulsanti un po' più avanzati. Comunque, abbiamo realizzato anche dei video tutorial relativamente al trading spot. Vatteli a vedere. Oltre a questo, altre cose veramente interessanti che ti permette di fare Bing X, perché, ovviamente, il trading spot è per chi è già nel mondo del trading. Quindi, se tu non sei, ovviamente, un esperto di trading, l'altra cosa utile che potresti fare è affidarti a dei trader esperti. Come farlo? Lo andiamo a vedere subito sfruttando il copy trading. Per accedere a questa schermata basta andare sempre in alto, anziché spot. Basta andare su copy trading e andare a cliccare su copy trading. Ok? Quindi accederai a questa schermata, puoi decidere di affidarti al futures o lo spot. In questo caso siamo all'interno della schermata dei futures, ma il concetto è sempre quello. Qui hai la possibilità di vedere, quindi, una panoramica completa di tutti quelli che sono i trader. Ovviamente sono più pagine in questo caso. E qui, ovviamente, hai una serie di statistiche che già ti danno un'idea dell'affidabilità di un trader piuttosto che un altro. Lo vedi perché, ovviamente, qui hai la percentuale di ROI. In questo caso sono, si può dire, quasi tutti, sì, tutti in positivo. Hai la possibilità di andare a vedere quanti copiers, quindi quante persone seguono già questo trader. Vedi anche il punteggio di rischio. Ovviamente più è alto, più ovviamente il rischio è maggiore e più è basso, ovviamente, il rischio è meno e minore. Per accedere, ovviamente, alle statistiche un po' più avanzate basta cliccare all'interno del trader. Quindi clicchi sul nome del trader e qui, come puoi vedere, ti dà la possibilità di andare a vedere delle statistiche un po' più avanzate e con, ovviamente, in questo caso, uno storico di tutte le percentuali di ROI che, appunto, ha conseguito negli ultimi 30 giorni oppure, per esempio, puoi impostare a 90, 180 e così via. Puoi vedere le performance, ok? Quindi, come possiamo vedere qui, in questo caso, per la maggiore è sempre in profitto. L'assetto del rischio. Puoi vedere, appunto, tutta un'altra serie di statistiche. Adesso non mi voglio addentrare troppo nel mondo del copy trading. Realizzeremo sicuramente un video doc, però sappi che, nel momento in cui ti vuoi affidare a questo trader, basta cliccare su copy e decidi, appunto, la quantità con cui entrare. Quindi capisci bene che, partendo da un semplicissimo bonus, puoi veramente generare altri soldi all'interno di Bing X. Signori, fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate relativamente a questo bonus. Se avete le domande, scrivetele nei commenti. Per questo video è tutto. Ciao e a presto da Claude.